Siamo qui con il sergente Fortunello del GOP, gruppo operativo Panetta. Ieri è stata ripristinata questa striscia di strada che sono lavori vecchi mai compiuti. Era una traccia di un lavoro fatto al comune che non è stato mai compiuto. Dove c'era una bucha enorme che Fortunello, ma non come in qualità di sergente GOP, ma come cittadino a disposizione dei cittadini, ha ricoperto questa bucha a spese proprie. L'ho fatto per i cittadini, perché muoiono bene. L'ho speso 24 euro, fra manico, la secchia e due cose di cemento. Qui vedete passa pure la polizia e i vigili, ma noi non abbiamo nessun timore. Siamo contenti che ci guardi i nostri lavori. L'ho speso, la bucha era profonda 9 cm, ogni macchina rompeva, copertone, eccetera. Ora come possiamo notare la bucha è stata ripristinata, quindi con poco si è fatto il lavoro. Perché nessuno compie questi lavori Fortunello? Ora sono venuto per fare la seconda buca, più avanti, andiamo a vedere la seconda buca. Ecco qui, qua la strada è tutta un degrado, però queste buche che vi dico io sono troppo grandi, allora urge l'intervento dei sassi, pietre e poi il cadrame sola. Perché i cittadini chiamano a lei Fortunello? Ma chiamano a me perché vedono che agisco più veloce del comune e deciso, non prendo in giro nessuno. È un comune assento, Fortunello. Sì, agisco. Ora c'è il problema della fogna, il problema della fogna, attenzione, perché io per scoprire tutti i bambini. Comunque dice che da un paio di giorni Gallico ha problemi anche con la rete idrica. Rete idrica, tutto, ci penso io, ragazzi, chiamatemi, basta, non avete paura. Qua ci sono io, non ci sono i cloni, come gli altri posti, qua ci sono io. Ora il lavoro che sarà fatto oggi sarà ricoprire l'ennesima buca. Questa è sempre una traccia di lavori non compiuti. E' una buca profonda sui 10 cm. Ecco qua. Ci può passare una macchina qua, che stanno rompendo tutte le ruote, copertoni. Infatti ora quando passerà la macchina noteremo la fossa. Ma tutti si schivano, vanno tutti per l'altro. Però se passano di qua rompono la ruota. Comunque ci vediamo fra un pochetti o comincio a fare questo lavoro. Ok. Se c'è qui il catrame ha freddo, eccolo qui. Comunque posso dirti che tanti cittadini dovrebbero prendere esempio. Sì, no, tanti cittadini mi hanno detto, non pagano più le tasse. Daranno qualche soldo che hanno, me lo daranno a me. Perciò mi dispiace, gentilissima l'amministrazione, ma qua i soldi cominciano a girare verso di me. Perciò state bene così. Comunque, Fortunello, buon lavoro e ci vediamo dopo. Grazie, ci penso io che ho fatto. Buon lavoro. Buon lavoro.